Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo come al solito che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Anche questo caso me l'avete consigliato voi sul Google Docs. Oggi sono qui per parlarvi del caso di Brooke Baker. Iniziamo immediatamente a delineare questa storia partendo dal posto in cui si svolge questo caso. Siamo a Vincennes, una cittadina rurale dell'Indiana. È popolata da circa 18.000 abitanti ed è il capoluogo della pittoresca contea di Knox. Vincennes è la città più antica dell'Indiana ed è la destinazione perfetta per gli appassionati di storia e agricoltura. In effetti l'agriturismo rappresenta una gran parte delle visite turistiche della cittadina. Qui, il 27 aprile del 1978, nasce la protagonista nel nostro caso, Brooke Baker. Fin da piccola si dimostra particolarmente testarda e tenace. Inoltre, a molti obiettivi, crescendo Brooke diventa una giovane donna ambiziosa e determinata. È l'agosto del 1996 e la cittadina in cui vive è sede della Vincennes University, l'università pubblica più antica dello Stato. Brooke ha ormai 18 anni ed è cresciuta in una famiglia poco ambiente, quindi è entusiasta di poter frequentare l'università per realizzare il suo sogno di diventare giornalista. Brooke ha mosso i suoi primi passi scrivendo il giornale scolastico alle superiori ed ora inizia un corso biennale di giornalismo all'università. La ragazza ha davvero talento, alcune persone la riconoscono perché hanno letto qualche articolo scritto da lei. Infatti fa immediatamente amicizia con Shona Cooper. Le due sono entrambi di Vincennes e lavorano entrambe per il giornale dell'università, il trailblazer. Fin da subito, Brooke si mette in gioco per prendere anche decisioni editoriali. È una ragazza intraprendente e molto ambiziosa. Ha grinta e determinazione, porta quindi avanti qualsiasi progetto le venga in mente. Sebbene Brooke sia molto impegnata, è vicina alla sua famiglia, specialmente a suo fratello minore Brown, che spesso va a trovarla. Pur essendo una matricola, Brooke inoltre è estroversa e si fa subito degli amici. Infatti, in attesa di trovare un appartamento, la ragazza vive insieme ad un amico di nome Jason. Come molti studenti universitari, Brooke ha qualche appuntamento sporadico, ma non vuole distrarsi con una relazione. Tuttavia esce ogni tanto con Steve, un altro studente della Vincennes. Steve è premuroso, sensibile ed è molto affascinato da Brooke, ma lei è più interessata al suo lavoro al giornale. Ecco perché al secondo semestre la ragazza passa la maggior parte del tempo a sviluppare potenziali storie per il giornale dell'università, il trailblazer. Brooke sa di che cosa ha bisogno per spiccare il volo da quella cittadina. Dice quindi ai suoi colleghi che vorrebbe scrivere un pezzo decisamente più serio dei soliti che il giornale propone. Brooke infatti è determinata a scrivere un ottimo articolo e per cercare di farsi un nome, la ragazza punta ad una delle istituzioni più potenti del campus, ossia le confraternite. Le confraternite studentesche influenzano gran parte della vita universitaria e molte delle autorità del campus appartengono a queste associazioni. Alcune confraternite sono piuttosto grandi e hanno parecchio potere. Tuttavia molte confraternite hanno una brutta reputazione nel campus e per Brooke meritano di essere messe a nudo. All'interno delle confraternite infatti si superava spesso il limite, c'erano feste sfrenate, consumo di alcol, a volte sembrava che per i membri delle confraternite le regole fossero diverse dal resto del mondo e molti lo vedevano come un segno del loro potere. Quando Brooke viene a sapere che c'è stato un insabbiamento di una presunta violenza intima nella confraternita decide di indagare sulla vicenda. Anche il suo professore a dirla tutta è piuttosto preoccupato. Dice a tutti di procedere con cautela, tuttavia Brooke è decisa ad andare avanti con la storia, sa di aver bisogno di più informazioni, e quindi si affida al suo amico e coinquilino Jason, che ovviamente fa parte della principale confraternita del campus. Jason infatti partecipa attivamente alla vita della confraternita, va a tutte le feste così come tutti i suoi amici. Brooke quindi chiede a Jason se per caso sono previste delle feste della confraternita in quei giorni. E in quel momento è presente anche un altro coinquilino di Jason, ossia Brian Jones. Anche Brian è uno studente della Vincent's University e fa parte della stessa confraternita. Ovviamente i ragazzi le dicono che è prevista una festa la sera successiva e sono felicissimi che Brooke voglia unirsi a loro. Per la prima volta Brooke e la sua amica Shona decidono di andare a questa festa insieme a Brian e Jason. Sono presenti tantissimi ragazzi che bevono, alcuni fumano la sostanzina leggera, insomma si stanno divertendo tutti tantissimo. Ballano e bevono, ma Brooke non è lì per bere, fumare, socializzare o divertirsi. È intenta parlare con i presenti per scoprire qualcosa sulla presunta violenza intima e sul successivo insabbiamento. La serata alla fine dà i suoi frutti, Brooke parla con diverse persone e finalmente riesce a scoprire il nome e l'indirizzo della ragazza che sostiene di essere stata vittima della violenza perpetrata da un membro della confraternita. Ovviamente le sue domande non passano inosservate, però lei non ci fa neanche caso. Nelle settimane successive continua a fare ricerche su quella storia e i suoi amici iniziano ad essere preoccupati per lei. La verità è che Brooke, delle confraternite, non ha assolutamente paura e la sua sicurezza cresce quando nel luglio del 1997 affitta una casa appena fuori dal campus. Il proprietario della casa lavora come addetto alla sicurezza del campus. Brooke dunque si sente al sicuro nella sua nuova casa e continua ad indagare sulla sua storia, organizzando un'intervista con la presunta vittima per raccogliere informazioni. Quando però si presenta a casa di questa presunta vittima, quest'ultima improvvisamente cambia idea. Annulla l'intervista, non vuole più parlarne. Ovviamente Brooke crede di sapere il motivo del suo ripensamento. Sono stati membri della confraternita. Forse qualcuno aveva fatto pressione sulla ragazza perché non parlasse e si tirasse indietro. Questo è uno sviluppo allarmante che porta Brooke a chiedersi fin dove qualcuno possa spingersi per tenere nascosta questa storia. Ma lei è comunque decisa di indagare a qualunque costo. Passa un mese, è la sera di domenica 7 settembre 1997, quando Brown, il fratello minore di Brooke, va a trovarla. Ha le chiavi di casa, quindi entra, chiama Brooke, ma lei non risponde. Sente il rumore dell'acqua che scorre in bagno, quindi si affretta per entrare in quella stanza. Nota che in effetti il rubinetto della vasca è aperto e all'interno della vasca è presente un asciugamano. Brown chiude il rubinetto pensando che sia strano che sua sorella non sia presente. Esce quindi dal bagno e va verso la camera da letto. Apre la porta e trova Brooke. Per terra, senza vita. A questo punto chiama immediatamente la polizia e il detective Greg Winkler, arrivato sulla scena, entra in casa con cautela. La vittima è distesa a terra, su materasso, che è sul pavimento. È nuda, sembra abbia subito una violenza intima. È stata pugnalata tre volte al petto e undici volte alla schiena. Sulla parete sono presenti schizzi di sangue, apparentemente derivanti proprio dall'aggressione. Mentre il detective esamina la casa in cerca di prove forensi, si fa un'idea del possibile scenario dell'aggressione. La porta non presenta segni di scasso, questo vuol dire che la vittima ha fatto entrare il suo aggressore di sua spontanea volontà. Forse era una persona che conosceva? È chiaro che il colpevole ha cercato di pulire la scena del crimine dopo il delitto. Nella vasca è presente un asciugamano, mentre per terra, vicino alla vasca, è presente una bottiglia di candeggina. Il lavandino della cucina ha al suo interno circa due litri d'acqua ed è presente molta schiuma. Sono presenti anche due confezioni di detersivo per i piatti, entrambi vuoti all'interno di quel lavandino. Il detective quindi immerge la mano e trova ben presto un coltello, che tra l'altro ha ancora delle tracce di sangue. Quella è quasi sicuramente l'arma del delitto. Quando effettuano l'autopsia ed esaminano il corpo di Brooke, la polizia scopre la prova più incriminante, il DNA dell'assassino. La ragazza infatti ha subito davvero una violenza intima, ma il sequenziamento del DNA può richiedere molte settimane e con un assassino a piede libero la polizia avvia immediatamente le indagini. Deve indagare sulle numerose persone presenti nella vita di Brooke, quindi iniziano da coloro che la conoscevano. Iniziano a cercare possibili sospettati e persone informate sui fatti tra i suoi amici. Gli investigatori sono convinti che nell'intricata rete di interazioni di Brooke ci sia un indizio che conduca al suo assassino. Fatto sta che c'è troppo lavoro da fare per andare di fretta, è necessario restare concentrati per cercare di scoprire se qualche indizio possa essere in relazione con qualcos'altro. Nel frattempo, sebbene il fratello di Brooke sia sconvolto per aver trovato il suo corpo, la polizia deve parlare con lui. È una situazione davvero orribile per lui, è stato a dir poco devastante trovare sua sorella senza vita, ma la verità è che Brown era molto legato a sua sorella. Quindi potrebbe dare delle informazioni utili alla polizia. Gli investigatori provano a tranquillizzarlo, poi gli chiedono se ha in mente qualcuno di sospetto. Ha in mente qualcuno che possa aver fatto del male a sua sorella? Brown è sconvolto. Ancora non riesce a razionalizzare il fatto che sua sorella sia morta, non riesce a credere che sia successo davvero. I detective si rendono conto che è molto scosso, quindi stanno con lui per un bel po', cercano di tranquillizzarlo e finalmente Brown dà loro delle informazioni parecchio importanti. A quanto dice, sua sorella Brooke si vedeva con un tipo, non era fidanzato ufficialmente con lui, ma usciva con Steve, il ragazzo con cui Brooke, per l'appunto, ogni tanto usciva senza impegno. La polizia, ovviamente, appena prende l'informazione che Brooke si vedeva con un tizio, non ha dubbi. Il primo su cui devono indagare, in modo approfondito, è quello che loro definiscono il suo ragazzo. Forse Steve voleva ufficializzare la storia con Brooke. Lei si era rifiutata e lui aveva perso la testa? Intanto, nel campus, la voce che Brooke Baker era stata uccisa aveva iniziato a girare molto velocemente. Il delitto era avvenuto domenica 7 settembre e lunedì 8 settembre, entro la fine della giornata, tutti lo sapevano, tutti ne parlavano e tutti erano sconvolti. Nessuno era più tranquillo perché c'era un assassino in circolazione. Intanto, i detective chiamano in centrale Steven per interrogarlo. È uno studente e vive a Vincent. Steven spiega che lui e Brooke, in effetti, si vedevano ogni tanto, avevano una relazione occasionale, insomma. La sera precedente, ossia sabato sera, lui e Brooke erano andati insieme ad una festa, con altri studenti, ma il ragazzo afferma che quando Brooke era tornato a casa, lui era rimasto alla festa. Steven sottolinea che non avevano litigato, bensì la ragazza aveva detto che era stanca. Ipotizza anche che potrebbe essersi fatta dare un passaggio da qualcun altro presente alla festa che conosceva. Brooke, a dirla tutta, conosceva davvero tante persone e riusciva a stringere amicizia con tutti. Gli investigatori credono poco alla versione di Steve, quindi continuano a fargli domande sul perché lui e Brooke si erano separati. Perché lui non era tornato a casa con lei? Steve alla fine ripete sempre la stessa versione, ovvero che Brooke era tornata a casa perché era stanca, mentre lui era rimasto alla festa per continuare a bere e divertirsi con i suoi amici. Quindi gli amici di Steve potrebbero confermargli l'alibi. Peccato che per quella sera gli amici di Steve non sono assolutamente in grado di fornirgli un alibi affidabile. I detective cercano di ricostruire i movimenti di Steve tramite delle persone che avevano bevuto molto e avevano pure fumato. A volte quindi non ricordavano bene quello che era successo. La polizia continua ad avere sospetti su Steve, ma la sua avversione in realtà non cambia mai, neanche dopo ore ed ore di interrogatorio. Senza alcuna prova schiacciante contro di lui i detective lo lasciano andare e aspettano di ricevere dal laboratorio i risultati del DNA. Nel frattempo i detective si rivolgono agli studenti di giornalismo e ai professori di Brooke per scoprire potenziali sospettati. I detective infatti dicono al suo professore che la sera prima di morire Brooke era andata ad una festa. Il professore quindi rivela che Brooke stava lavorando ad una grossa storia su una confraternita del campus. La polizia quindi chiede spiegazioni e a questo punto si fa avanti Shona, l'amica di Brooke. Spiega che in primavera Brooke aveva iniziato ad indagare su una presunta violenza avvenuta in una confraternita. Rivela inoltre un'altra cosa che in pochi sanno. Quando i membri della confraternita avevano scoperto quello che stava facendo si erano infuriati a dir poco. Prima le avevano lasciato un biglietto attaccato alla porta di casa con scritto Sappiamo che stai indagando su di noi per la storia della violenza. Fatti gli affari tuoi, non sai in che cosa ti stai cacciando. Questa storia non vedrà mai la luce del sole. Poi le avevano scritto diverse mail minacciose e infine si erano presentati a casa sua. Infatti alcuni confratelli avevano optato per un'azione più aggressiva. Erano andati a casa di Brooke e avevano iniziato a bussare alla porta urlando. La ragazza aveva aperto la porta per mandarli a quel paese mentre loro le avevano fatto una chiara minaccia di morte. Ossia le avevano detto Se hai intenzione di scrivere quell'articolo è meglio che ti guardi le spalle. Ma la verità è che Brooke non aveva paura della confraternita. Non avrebbe permesso a dei ragazzi viziati di spaventarla per quella storia. Brooke era determinata a scrivere la verità sulla confraternita ad ogni costo ed ora che è stata brutalmente uccisa la polizia si chiede se ne abbia pagato il prezzo. Così gli investigatori si recano alla confraternita per indagare e interrogano davvero tanti ragazzi. Chiedono a tutti, nessuno escluso, come hanno conosciuto Brooke per cercare di capire chi altro la potesse conoscere. Ma si rendono ben presto conto che un nome portava ad un altro nome. Alcuni dicono che in effetti erano arrabbiati per quell'articolo altri dicono che non c'entravano assolutamente niente. Gli investigatori parlano con molti membri della confraternita e sebbene ogni nuovo collegamento li conduca ad altri ragazzi alla fine non arrivano da nessuna parte. Anche gli amici di Brooke, Jason e Brian sono possibili sospettati perché membri della confraternita. Il caso a questo punto diventa sempre più complicato le persone coinvolte aumentano e molte di queste persone coinvolte non riescono neanche ad essere identificate. Gli investigatori dal canto loro cercano di interrogare chiunque conoscesse Brooke se qualcuno diceva di avere anche solo un rapporto di conoscenza con lei veniva interrogato. Così facendo i detective cercano di escludere potenziali sospettati ma la verità è che più cercano di escluderne alcuni più finiscono con l'aggiungerne altri. Gli studenti intanto faticano a tornare alla vita di tutti i giorni. L'assenza di Brooke è molto sentita dai suoi colleghi al giornale. Mentre gli studenti provano ad andare avanti la polizia passa il rassegno ai sospettati e per restringere la lista esamina nuovamente le prove trovate sulla scena del crimine. C'è un indizio che è saltato all'occhio degli investigatori fin da subito. Da un punto di vista investigativo quando non ci sono segni di effrazione si presume che la vittima conoscesse l'aggressore e l'avesse fatto entrare. A questo punto si chiedono chi sarebbe potuto entrare in casa di Brooke senza alcun problema. Ed è così che emerge un nuovo sospettato perché i detective scoprono che c'è una persona che in effetti entrava e usciva da casa di Brooke liberamente. ossia il suo proprietario di casa il vigilante del campus. La ragazza aveva già detto a qualche amica affidata di essere preoccupata a causa del suo padrone di casa. In pratica Brooke era a disagio perché l'uomo spesso si presentava a casa sua e neanche suonava il campanello bussava alla porta entrava e basta. Quello che i detective scoprono sul passato dell'uomo fa scattare un allarme. infatti le studentesse raccontano che non fa altro che guardare e spiare le ragazze del campus. A dirla tutta inizialmente Brooke si era sentita al sicuro con un addetto alla sicurezza che vigilava su di lei. Ma Shona la sua amica sostiene che la situazione era cambiata. Quando l'uomo aveva sviluppato un'ossessione per la sua nuova inquilina Brooke parlava del suo padrone di casa in modo non troppo positivo. Lo trovava inquietante anche perché come già vi ho detto si presentava a casa senza preavviso ed entrava senza annunciarsi. In un'occasione Brooke racconta che era appena uscita dalla doccia aveva addosso solo un asciugamano e si era voltata di colpo perché aveva notato uno strano riflesso nello specchio che era ancora un po' appannato e lui in effetti era lì le aveva detto che doveva passare l'insetticida. Brooke a quel punto non si sentiva più così al sicuro in casa sua anzi era spaventata. Questo comportamento sospetto dà alla polizia un altro potenziale sospettato. I detective chiamano l'uomo in centrale e gli dicono che sono a conoscenza del fatto che entrava nell'appartamento che aveva affittato a Brooke senza permesso. L'uomo esclama che non era vero lui doveva solo spruzzare l'insetticida ma per Brooke questo andava oltre i compiti di un padrone di casa. I detective chiedono quindi all'addetto alla sicurezza se provava attrazione per Brooke ma lui non ci casca risponde quindi che si limitava ad essere solo il suo padrone di casa insomma. I detective a questo punto gli chiedono dove fosse quando la ragazza era stata uccisa e l'uomo risponde che stava lavorando era di turno per tutta la notte ed è vero ma anche se questa informazione corrisponde al vero in quanto vigilante del campus la ronda lo porta sempre proprio vicino alla casa in cui vive Brooke quello è un campus piccolo e Brooke abita a mezzo isolato la casa è a due passi dall'università ancora una volta la polizia non ha prove schiaccianti per indagare l'uomo perciò deve rilasciarlo almeno per ora la frustrazione degli investigatori cresce hanno molti indiziati ma tutti sono collegati all'omicidio soltanto da sospetti e voci di corridoio non hanno niente in mano tranne il campione di DNA trovato sul corpo di Brooke Baker le prove materiali dicono agli investigatori che Brooke conosceva il suo assassino era un uomo che l'aveva aggredita aveva fatto violenza su di lei e infine l'aveva uccisa le speranze di risolvere il caso si riponevano sul DNA quindi bisognava trovare la persona con quel profilo del DNA finalmente alcune settimane dopo aver prelevato il campione il sequenziamento del DNA viene completato ma nessuno è pronto per il segreto che ribellerà gli investigatori hanno interrogato dozzine di potenziali sospettati ai quali hanno prelevato dei campioni con l'intento di confrontarli con il DNA dell'assassino cominciando dal proprietario della casa in cui viveva Brooke ed è così che scoprono che il DNA presente sul corpo della vittima non combacia con il suo proprietario di casa ed è così che scoprono che il DNA presente sul corpo della vittima non combacia con il suo proprietario di casa quindi devono escluderlo quando il proprietario della casa considerato il principale sospettato viene escluso la polizia rivolge l'attenzione a Steve il ragazzo che qualche volta usciva con Brooke anche il suo DNA però non corrisponde a quello dell'assassino a questo punto la polizia rivolge l'attenzione ai membri della confraternita che hanno minacciato Brooke almeno 65 persone della confraternita hanno fornito il loro DNA ma nessuno corrisponde al profilo dell'assassino di Brooke gli investigatori a questo punto sentono di aver perso soltanto tempo nessuno corrisponde al DNA dell'assassino quindi sono obbligati a rincominciare da capo e a continuare a cercare il colpevole tornati al punto di partenza i detective cercano di prelevare campioni di DNA da chiunque si trovasse vicino alla casa di Brooke la notte dell'omicidio l'indagine si protrae per mesi quello è un processo lento e frustrante in alcuni casi gli studenti sono dei fuorisede o ancora sono di passaggio quindi i ragazzi vanno e vengono e una delle cose che i detective temono è che l'assassino se ne sia andato dopo l'omicidio quindi devono trovare gli indirizzi di tutti quelli che hanno lasciato il campus e rintracciarli questo è un processo lento che richiede tempo ma gli investigatori comunque non si arrendono però malgrado gli sforzi i detective non riescono a scoprire l'identità dell'assassino di Brooke Baker non fanno altro che richiedere le analisi del DNA dei campioni prelevati ma ogni volta non corrispondono al profilo del DNA dell'assassino di Brooke intanto nel campus aleggiano paura e incertezza nessuno aveva idea di chi avesse commesso il crimine quindi l'assassino era ancora in libertà senza nuovi sospettati alla fine le indagini subiscono una totale battuta d'arresto gli investigatori erano convinti di risolvere il caso velocemente una volta ottenuto il DNA dell'assassino ma ora si chiedono se il responsabile verrà mai trovato o peggio ancora se ucciderà di nuovo poi il 5 luglio del 1999 quasi due anni dopo l'omicidio di Brooke la polizia riceve una telefonata che confermerà i suoi peggiori incubi una ragazza di nome Erika Norman un'altra studentessa dell'università di Vincennes viene dichiarata scomparsa proprio quel giorno i detective vanno a dare un'occhiata a casa sua e si rendono conto che sono di nuovo davanti ad una scena del crimine quindi con molta probabilità c'è un'altra vittima gli investigatori quindi entrano in casa non trovano segni di effrazione notano che sulla parete sono presenti degli schizzi di sangue il soggiorno è messo a soquadro c'è una lampada rotta un tavolino rovesciato e dei pantaloncini sporchi di sangue inoltre un cuscino del divano è a terra in bagno il rubinetto della vasca è aperto nella vasca da bagno sono presenti altri cuscini che sono stati chiaramente usati per pulire gli investigatori non ci mettono molto a collegare quella scena del crimine a quella dell'omicidio di Brooke Baker ebbene come già vi ho detto quella è la casa di Erika Norman e anche se il suo corpo non è presente in casa la polizia è certa che la ragazza ha subito la stessa sorte di Brooke Baker il tempo è cruciale i detective vengono a sapere dagli amici di Erika che la ragazza è stata vista viva per l'ultima volta il 3 luglio ha trascorso la serata in un bar vicino al campus uno dei detective conosce bene quel locale quindi fa una telefonata al padrone dicendo che sta indagando su un presunto omicidio e la vittima è Erika Norman il proprietario del locale conferma al detective che Erika la sera del 3 luglio era proprio al suo bar e non era da sola né con un gruppo di amiche bensì era lì con un ragazzo di nome Brian Jones il nome in effetti agli investigatori è familiare perché era amico anche di Brooke Baker Brian è uno studente della Vincense tutti pensano sia un ragazzo tranquillo e simpatico la polizia si era chiesta se fosse una coincidenza il fatto che Brian conoscesse entrambe le vittime ma d'altronde Vincense era una piccola città no? ma in ogni caso per sicurezza i detective decidono di controllare il campione di DNA relativo al caso di Brooke Baker per capire se corrisponde a quello trovato a casa di Erika Norman ma c'è un problema non c'è alcun campione nonostante Brian Jones conoscesse Brooke non aveva mai fornito un campione del suo DNA poiché al campus c'erano studenti fuori sede e con il passare dei mesi molti erano andati via così come Brian Jones dopo l'omicidio di Brooke aveva lasciato la città e casualmente era andato via prima di fornire alla polizia un campione del suo DNA ma ora è di nuovo in città e il rapporto tra Brian e i due omicidi non passa inosservato era l'ultimo ad aver visto Erika Norman viva e conosceva Brooke Baker gli investigatori quindi convocano subito Brian Jones per interrogarlo giustamente quando i detective gli spiegano che stanno indagando sulla scomparsa di Erika Norman Brian è disponibile ad aiutarli durante l'interrogatorio infatti Brian mantiene un comportamento normale ammette di essere stato al bar con Erika e dichiara che poi hanno trascorso una serata tranquilla a casa della ragazza stando al suo racconto quella sera i due avevano guardato un film e mangiato qualcosa poi Erika si era addormentata e lui era andato via i detective gli chiedono il permesso di perquisire sia la sua auto che la sua abitazione e lui accetta collabora per tutto il tempo poi i detective gli chiedono se possono prelevare un campione del suo DNA e anche in questo caso Brian accetta aggiungendo queste esatte parole non ho niente a che fare con quello che è successo a Erika è chiaro che Brian Jones crede che la polizia stia indagando solo sul caso di Erika e sa che il corpo non è stato trovato Brian quindi non sa che la polizia sta per confrontare il suo DNA con il campione risalente al caso il risolto di Brooke di due anni prima il DNA viene quindi portato in laboratorio per un confronto il nome di Brian a questo punto è in cima alla lista dei sospettati e finalmente dopo due lunghi anni la polizia riceve la telefonata tanto attesa dal laboratorio le informano che in effetti c'è un riscontro quindi l'assassino è Brian Jones la polizia non perde tempo il 13 luglio del 1999 arresta Brian Jones immediatamente anche se il corpo di Erika Norman non è stato trovato l'esito positivo del confronto del DNA basta per accusarlo dell'omicidio di Brooke Baker a questo punto Brian smette di essere collaborativo non dice nulla sull'omicidio di Brooke Baker ma dopo aver interrogato gli amici di Brian e altri testimoni gli investigatori credono di sapere abbastanza per ricostruire la terribile verità ovviamente ipotizzano quello che è successo basandosi sulla loro esperienza Brian era ad una festa a meno di un isolato dalla casa di Brooke il ragazzo aveva bussato alla sua porta e lei l'aveva fatto entrare probabilmente avevano fatto quattro chiacchiere ma lui aveva un altro fine quella sera ossia andare a letto con Brooke quest'ultima però si era rifiutata era una ragazza molto risoluta ma Brian aveva insistito così avevano litigato lui si era infuriato e aveva comunque deciso di fare violenza su di lei l'aveva successivamente uccisa a pugnalate poi aveva cercato di pulire la scena meglio che poteva aveva messo il coltello con cui aveva ucciso Brooke nel lavandino della cucina l'aveva nascosto sotto ad un piatto e ci aveva versato sopra il detersivo per i piatti poi era andato in bagno aveva aperto il rubinetto si era lavato ed era fuggito nella notte nessuno aveva visto né sentito niente il suo nome emerge solo quando lo fa una seconda volta con Erika Norman la settimana dopo che Brian Jones viene accusato dell'omicidio di Brooke Baker il corpo di Erika Norman viene ritrovato in un campo di mais a pochi chilometri di distanza dal campus infatti un giorno un contadino stava camminando nel suo campo di mais quando aveva sentito uno strano odore e aveva pensato che fosse un animale morto invece ahimè era il corpo senza vita di Erika ma c'era un problema il calore dell'estate aveva ridotto notevolmente la possibilità di identificare il corpo era così decomposto che non era possibile eseguire neanche un esame del DNA ma avevano richiesto l'esame dell'impronta dentale e il patologo aveva confermato che quello era il corpo di Erika Brian Jones si dichiara colpevole dell'omicidio di Erika Norman quindi viene condannato a 60 anni di reclusione ma nega di aver ucciso Brooke quindi il caso va in tribunale a questo punto emerge che il giorno dopo l'omicidio di Brooke il ragazzo era addirittura stato visto con dei graffi sul viso alla fine viene dichiarato colpevole della morte di Brooke Baker e condannato all'ergastolo senza condizionale è inoltre emerso che colui che aveva fatto violenza sulla prima ragazza quella che Brooke voleva intervistare ma che si era tirata indietro era Brian Jones ha avuto il coraggio di parlare solo quando è stato arrestato Brooke è morta per l'articolo che stava scrivendo? purtroppo non ci è dato saperlo ma forse Brian aveva scelto proprio lei per la storia dell'articolo insomma sicuramente Brian era un peccatore aveva bisogno di farlo perché altrimenti non ci sarebbe stata una seconda vittima io ho finito di parlare in questo video questo caso l'ho trovato davvero interessante principalmente per Brooke per la sua personalità era chiaramente una ragazza forte e determinata era una ragazza che voleva arrivare alla verità voleva scoprire se effettivamente era successo qualcosa di tremendo come una violenza in quella confraternita purtroppo non ci è dato sapere se è stata uccisa per quell'articolo oppure per casualità però credo che la sua tenacia la sua voglia di raccontare questa storia sia assolutamente da prendere ad esempio anche se dall'altro lato bisogna assolutamente fare attenzione perché non è carino ricevere minacce di morte ragazzi e ragazze affatto specialmente se le ricevi per un articolo che vuoi scrivere anche perché sottolineiamolo lei non è riuscita a scriverlo quell'articolo purtroppo è morta prima quindi sì è vero stava indagando ha molto senso che Brian abbia scelto lei per toglierla di mezzo ha molto molto senso però purtroppo Brian non ha detto nulla su questo e quindi noi non possiamo assolutamente trarre alcuna conclusione se non fare delle ipotesi spero che questo video possa essere stato per voi interessante fatemi sapere quello che pensate qui sotto nei commenti sappiate che vi leggo sempre tutti io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti